Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la seconda variazione di bilancio. Il Presidente Gianni presenta un pacchetto di emendamenti. Il dibattito è in aula. Presentata la 26esima edizione di Boccaccesca, la rassegna enogastronomica che si svolgerà a Certaldo dal 10 al 13 ottobre. Approvata la seconda variazione di bilancio. È stata approvata a maggioranza in Consiglio regionale la seconda variazione di bilancio. Hanno votato a favore PD e Italia Viva, contrari Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. L'intervento illustrativo sui provvedimenti di natura finanziaria e programmatoria è stato a cura di Giacomo Bugliani, Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale comporta una variazione sul fronte delle entrate e delle spese del bilancio regionale che è pari a meno 26 milioni per il 2024, quasi 2 milioni per il 2025 e 49 milioni per il 2026. Si tratta peraltro di una variazione a cui farà seguito a breve una seconda variazione prevista per il mese di novembre in attesa poi dell'approvazione del bilancio preventivo del 2025. È una variazione nella quale si registrano alcuni spostamenti importanti di risorse sul fronte sanitario, già che gli oneri del debito del servizio sanitario passano dal Fondo sanitario regionale al bilancio regionale, quindi gravando sul bilancio regionale occorre andare a sostenere questi nuovi aggravi attraverso le risorse derivanti dal maggior gettito collegato alla manovra che si è compiuta sull'addizionale regionale IRPEF. Un'altra importante variazione è quella relativa agli investimenti sulle programmazioni comunitarie. C'è una sensibile riduzione di tutte le quote, quindi quelle dell'Unione Europea, dello Stato e quindi anche della Regione, sulle annualità 2024 e 2025, un corrispondente incremento sull'annualità 2026. Come sottolineato dal Presidente, le altre modifiche contenute in questa seconda variazione al bilancio nascono dall'esigenza di stanziare risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria di sopravvenute spese, come ad esempio gli interventi a favore della Laguna di Orbetello. La variazione interviene in maniera importante sui temi della cultura, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, di cui quasi tutti dedicati allo spettacolo, e poi un milione destinato alla Fondazione del Carnevale di Viareggio e 660 mila euro destinati alla Fondazione del Festival Pucciniano. Per quanto attiene inoltre alle spese per investimenti, si segnalano l'integrazione delle risorse per interventi di manutenzione sulla viabilità regionale, per un totale di 4 milioni per il 2024. Il dibattito in aula è stato aperto dall'illustrazione del Presidente Eugenio Gianni degli emendamenti presentati, di cui sono beneficiari la Fondazione Sipario Toscana Onlus, il Comune di Cascina per alcuni interventi di manutenzione sulla viabilità pubblica, e il nuovo ponte sull'Arno a Fighine, incisa Val d'Arno. Previsti vari contributi straordinari per rifacimento, recupero e ripristino di impianti sportivi esistenti o realizzazione di nuovi impianti. Si è trattato di una discussione molto articolata, perché in un unico intervento abbiamo dovuto condensare un giudizio su quattro provvedimenti, due di carattere programmatorio e gli altri due invece legati al bilancio 2024. In particolar modo la variazione si riferisce a tantissimi interventi puntuali, sui quali è difficile dire di no per ogni singola questione, ma è chiaro che il Presidente Gianni ormai ha iniziato la sua campagna elettorale e la sostiene con interventi mirati, soprattutto a favore di amministrazioni di un certo indirizzo politico. L'unico intervento secondo noi veramente urgente e necessario era ed è l'intervento per la laguna di Orbetello a sostegno del Comune, perché lì si è verifiata una situazione di vero e proprio disastro ambientale che ha richiesto misure eccezionali. Per quanto riguarda la programmazione invece si naviga a vista, non si tiene conto per noi a sufficienza del complesso e preoccupante quadro economico internazionale. È il caso, in ultimo, delle aziende partecipate. Assistiamo nuovamente allo spostamento in avanti dei termini per la soluzione definitiva per Firenze Fiera, per Fili Toscana, per Sviluppo Toscana, tutte situazioni che attengono direttamente all'economia regionale perché si tratta di società che in qualche modo incidono nella carne viva delle nostre imprese e questo per noi è un elemento molto negativo. Indubbiamente si tratta di una manovra debole, frutto di una maggioranza debole, che non riesce a prendere delle decisioni importanti proiettate verso il futuro perché è evidentemente divisa al suo interno. Non solo sta naufragando il campo largo, ma la verità è che all'interno del PD ci sono più anime e questo non può che portare a dei provvedimenti soltanto puntuali sui territori. Si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura, al singolo teatro. Non si pensa però alla regione toscana e non c'è un'idea verso il futuro. Noi la nostra idea l'abbiamo sempre manifestata in questi anni. È l'idea di una Toscana che non sia soltanto un mega villaggio turistico. Certo, la Toscana ha dei numeri importanti in materia turistica e bisogna fare un'adeguata promozione del nostro territorio, ma non si può e non si deve vivere di solo turismo, anche perché il lavoro che è legato al turismo è un lavoro stagionale. Noi abbiamo necessità di sostenere convintamente la nostra tradizione manifatturiera. Invece vediamo che siamo in difficoltà specialmente in certi settori, come la moda, il cuoio, la pelletteria, le calzature. La variazione di bilancio non fa altro come in altre circostanze che continuare a elargire delle somme laddove si deve correre a ripari per disagi, problemi, questioni riguardanti comuni, sicuramente meritevoli, ma la variazione, così come il documento economico-finanziario nel complesso, continuano ancora a distanza di anni a mancare di una loro coerenza interna, di una sistematicità e soprattutto non fanno vedere quella che dovrebbe essere una visione della Toscana che va al dopo 2025, perché dobbiamo ricordare che stiamo andando verso la fine della legislatura. Così come è cominciata in maniera estremamente caotica, così sta proseguendo. E secondo noi non è questo il modo migliore per riuscire a governare la Toscana, una regione in generale, in una situazione anche di governo nazionale molto carente nelle risorse, in cui le risorse ci sono, perché la Toscana le ha, sono 13 miliardi di bilancio complessivi, molti dei quali finiscono in rivoli, perdite, sprechi, che in qualche modo non devono essere razionalizzati, ma meglio investiti. Alcuni esempi, per esempio, sono delle fondazioni o alcuni centri che negli anni hanno assorbito tantissimo denaro e che nel corso degli anni comunque si hanno continuato a richiedere pur non riuscendo a saldare, a arrivare a un saldo positivo del proprio bilancio. Tante le risposte che vengono date, specialmente per quanto riguarda gli impianti sportivi. Noi abbiamo deciso in questi anni di investire molto sull'impiantistica sportiva perché è un modo per dare risposte non solo ai singoli territori, ma anche alla socialità più diffusa. Interventi sulle scuole, anche questo è un tema che sta molto a cuore. Se noi offriamo alle bambine e ai bambini toscani delle scuole migliori, sono convinto che anche la loro qualità dell'apprendimento nel tempo può crescere. Ed è da tanti anni che non si sveste molto negli impianti sportivi, nell'edilizia scolastica. E queste sono le scelte principali che abbiamo portato avanti in questa variazione di bilancio, cercando di porre sempre attenzione a quei territori che soffrono un po' di più. Sì, un atto importante che consolida il bilancio della regione toscana nel 2024, che porta i conti in equilibrio, che dà alcune risposte importanti ai comuni toscani in maniera diffusa, ma che soprattutto mette in equilibrio risorse. È evidente che collegandosi a questo c'è il DEFRE, sul quale noi continuiamo una battaglia di principio, quella di ridurre le tasse ai cittadini toscani. Tel Aviva non è stata mai favorevole ad aumenti di tasse, a ragione sul fatto che le risorse le devono pagare le aziende farmaceutiche, c'è il payback, la Regge è cogente, la Corte Costituzionale ha dato ragione alla nostra battaglia politica. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane venga fatta questa riduzione delle tasse, venga scritto in bilancio quelle risorse che necessitano e che come tale i cittadini toscani trovino un alleggerimento della loro pressione fiscale e che di dovere paghi quello che deve alla nostra regione. In questo caso il governo deve assumersi la propria responsabilità nel garantire le regioni del credito delle quali hanno diritto di riscuotere. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con i 25 voti della maggioranza e 12 voti contrari dei gruppi di opposizione al documento di Economia e Finanza regionale 2025, approvata anche la nota di aggiornamento al DEFRE. Collegati al DEFRE 2025 sono stati approvati all'unanimità quattro ordini del giorno di Fratelli d'Italia, accolti gli emendamenti proposti dal Partito Democratico. Gli ordini del giorno sono stati illustrati dalla consigliera Sandra Bianchini. Approvato anche un quarto ordine del giorno, illustrato dalla consigliera Elisa Tozzi, che ha accolto un emendamento del PD per la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici. Dal 10 ottobre a Certaldo c'è Boccaccesca. Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con Boccaccesca, giunta alla 26esima edizione. La rassegna enogastronomica che si svolgerà a Certaldo dal 10 al 13 ottobre è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Boccaccesca è una di quelle iniziative che ormai da 26 anni fanno più bella la nostra regione. Boccaccesca è un augurio, un invito a vivere un buon autunno da parte di tutta Certaldo. È un po' la rappresentazione attraverso il cibo dell'identità culturale di un territorio. È un lavoro portato avanti da tanti anni, con impegno, passione e dedizione. Una di quelle iniziative che è cresciuta con il tempo e che già innovava 26 anni fa. Era qualcosa di unico, di diverso. Oggi ci sono tante iniziative che provano a replicare Boccaccesca, ma la bellezza di Certaldo, la sua capacità di saper attirare turisti da tutto il mondo, rende ancora più bella questa iniziativa. Buona Boccaccesca a tutti. A rappresentare il territorio, il consigliere regionale Enrico Sostegni. Certaldo Alta vale una visita di per sé, perché è un volgo conservato in maniera perfetta, vivo, con l'attività e quindi è sempre una bella meta. Nell'occasione di Boccaccesca è una meta che ci permette di conoscere l'enogastronomia toscana e non solo, c'è spazio per i paesi gemellati di Certaldo, quindi è una grande occasione per conoscere nuovamente attraverso un luogo tipico della Toscana quelle che sono le tradizioni e le caratteristiche sia legate alla produzione del vino che alla produzione del cibo della nostra regione. Ci sono momenti per i bambini, momenti di divertimento, c'è il mercatino dell'artigianato. Ha partecipato alla conferenza anche il nuovo sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli. Si viene a Boccaccesca senz'altro perché c'è questa offerta enogastronomica, però venire a Boccaccesca significa anche venire a Certaldo, venire in un paese che è inquadrato, bellissimo di suo, all'interno della Val d'Elsa che a mio avviso merita di essere valorizzata molto di più da un punto di vista turistico rispetto all'attuale valorizzazione, tanto è vero, uno dei miei punti cardine del programma è quello proprio di portare avanti un discorso di questo genere. Quindi il Comune di Certaldo sponsorizza Boccaccesca proprio perché Boccaccesca è un modo di valorizzazione patrimonio culturale e artistico del Comune. L'assessore al commercio e allo sviluppo economico Simone Scardigli ha voluto ringraziare chi investe in Boccaccesca e ci ha sempre creduto. Boccaccesca si rinnova, nuovamente praticamente avremo quattro giorni nel nostro borgo una festa che coinvolge i cinque sensi perché Boccaccesca è la festa dei cinque sensi, è la festa del gusto, dello sfatto, del vedere, del sentire. A Boccaccesca la tradizione, l'innovazione si fondono e danno vita a dei laboratori, a degli arti, a dei saperi enogastronomici, del territorio e non solo. Abbiamo l'esperienza dei nostri gemellaggi che verranno a presentare i loro prodotti ma anche le nostre realtà del locale che presenteranno i loro prodotti e le loro eccellenze. Boccaccesca è questo, Boccaccesca è il gusto, è la passione, è vivere il borgo quattro giorni intensamente. Franco Broggi, presidente Fiepet, confesercenti di Firenze, ha spiegato quali eccellenze enogastronomiche potremo trovare a Boccaccesca. Allora questa è la ventisesima esizione di Boccaccesca, sull'onda del successo dello scorso anno cerchiamo di riproporre gli stand enogastronomici da tutta Italia arrivano e quindi saranno oltre 50 e quindi le eccellenze diciamo enogastronomiche della nostra regione e non solo. Si va dai lampredotto, dai tipi di lampredotto, la porchetta, abbiamo tutti i tipi di fritto abbiamo anche il caciocavallo impiccato che arrivano dalla Puglia poi abbiamo i gemellaggi che da parte del comune Certaldo i paesi gemellati propongono loro prelibatezze ci sono la Moldavia, il Giappone, le Marche con le olive ascolane e i loro fritti tipici, gli spumini anche e poi il vino che anche il vino sarà della nostra regione e la parte del padrone la farà. Direttore artistico e vera anima di Boccaccesca da 26 anni è Claudia Palmieri. Ora Boccaccesca è veramente, si è rinnovata e questo mi fa un gran piacere perché il nuovo fa sempre piacere come diceva D'Alessio, se il nuovo incontra la tradizione è vincente ecco io penso che Boccaccesca sia vincente proprio per tutto quello che ha la tradizione e il nuovo la musica, lo spettacolo, per le strade quindi ogni visitatore potrà gioire non solo degli odori, dei sapori, di tutto quello che è il cibo ma anche proprio la musica, la vista quindi questo nuovo, questo collegare il bello non solo del cibo e del vino ma anche con quello che è il spettacolo è il nuovo, quindi questo connubio sicuramente sarà vincente. Grazie